All'andata in Nuova Feta espugnò per tre reti a due il campo del Lassar, debuttando dopo circa dieci anni in terra riccionesse con la formazione Juniors. Le due squadre si affrontavano nuovamente le giorni di ritorno con gli ospiti e con il risultato all'inglese vendicavano la sconfitta di un girone fa. Alla vigilia era lo scontro tra la terza contro la quinta della classe. In Nuova Feta cercava l'impresa per scavalcare i rivali, ma la stacchezza e i tanti innesti provenienti da altre formazioni giovanili, l'impegno infrasettimanale innamichevole in allenamenti svolti in maniera differenziata portano la scuola ad essere meno brillante rispetto al solito. Le occasioni latitano a Comandini, manca un punto di riferimento là davanti e si vede. Eppure l'inizio è di marca bianconera con Antonini che melta al centro per la corrente Dallara sul quale chiude ottimamente il portiere Amati. Ospiti che chiamano la presa a terra Germani con una punizione innocua di Silvagni. Nuova Feta che invece prova ad accendersi con un numero delizioso di Dallara che spara però tra i guantoni di Amati. Lo stesso portiere ospite viene chiamato poco dopo a un grande intervento, mentre dall'altra parte Lassar affonda ma senza mirare il bersaglio, più pericolosa con un traversone di Fister non agganciato da nessuno dei propri compagni di squadra, mentre Santoni sul finire di prima frazione di gioco scarica il pallone alla sinistra del palo della porta difesa da Germani. Nella ripresa in Nuova Feta cara da subito, predominio territoriale ospite che con Silvagni chiamano la deviazione in corner l'attento Germani. Ancora Hazard, in decisione della retroguarda Nuova Fertrese, batti e ribatti e botta a finale del centrale difensivo Caroni, sfera alle stelle. Dalla bandierina Germani è costretto nuovamente a respingere di pugno, Silvagni da fuori aria raccoglie il pallone, vince un contrasto ma risulta al momento del tiro impreciso, come del resto fa poco dopo lo stesso Bellucci. 72esimo, episodio chiave del match, palla persa banalmente a centrocampo, viene lanciato Santoni che in contropiede protegge palla ed è tenale di rigore prima di essere esteso da corazza che neppure protesta, si allontana sapendo del secondo giallo rimediato e abbandonando anzitempo il terreno di gioco. Dagli 11 metri lo stesso Santoni realizza i penalty dell'1-0. In contropiede un Marino, altro neo entrato, avrebbe il pallone del raddoppio ma Germani si mostra super. Sulla ribattuta Silvagni ancora una volta risulta essere impreciso. Altra mischina aria locale, batte e ribatti e alla fine ancora una volta un Marino che spara la palla sopra la porta difesa da Germani. Azione simile a qualche minuto più tardi mentre dall'altra parte Gori da calcio piazzato manda una palla telecomandata tra i guantoni di Amati. Ennesimo attacco offensivo, Maroni in contropiede imitando il Gallo Bellotti e Torino infila Germani per il 2-0 liberando il gesto del Gallo. Reazione d'orgoglio del nuova ferita che con Dallara tenta di colpire su punizione mentre all'ultimo a fondo si ha l'illusione del gol ma la sfera bacia i colori della rete di recinzione anziché quelli della rete di porta. 2-0 e la comandini boys almeno per oggi è rimandata.